Mi chiamo Nea Kangia, ho 19 anni, frequento la classe quarta A della scuola Piero Gobetti, ragioneria. Ho scelto questa scuola per avere la sicurezza di poter continuare un lavoro anche senza fare università oppure decido di approfondire le mie conoscenze facendo l'università. Poi naturalmente mi piace matematica, economia e finanze. Sto svolgendo la mia esperienza in Valvoil presso il reparto Uffici Gestione e Controllo. Mi occupo di distinta base, dare un valore ai prodotti finiti oppure di margini di contribuzione o preventivo di costi. Da questa esperienza ho imparato cosa significa svegliarsi alle 6 di mattina. Questa esperienza sicuramente rappresenta un valore aggiuntivo per i miei progetti. La Valvoil mi ha dato la possibilità di poter applicare le mie conoscenze preacquisite e mi ha dato anche la possibilità di distaccarmi un po' dal mondo della scuola e rapportarmi in un mondo del lavoro. Per il mio futuro mi aspetto di crescere professionalmente e di acquisire nuove conoscenze e poi magari di riuscire a trovare un lavoro all'interno di questa azienda oppure alle altre aziende.